Era la mia prima volta in tribunale da potenziale colpevole, da potenziale imputato, sono assolutamente soddisfatto di aver sentito finalmente la parte di un giudice che quello che si è fatto non si è fatto da soli, alzandosi la mattina e dicendo che faccio oggi blocco uno sbarco. Era parte di una procedura giusta, corretta, che risponde a tutta la normativa italiana, internazionale. Tanto che io non sono esperto, però chiesto ad aggiungersene normale, che l'accusa e la difesa chiedessero le stesse cose. Perché io ero abituato da utente dei telefilm che l'accusa chiedesse la condanna e la difesa dicesse dopo che aveva detto questo è innocento, è innocento. E la prima volta che mi sentirebbe che l'accusa diceva questo è innocento. Cioè siamo qua ma non dovremmo essere qua. E io ho detto ma non è impazzante per la difesa dover dire a ragione l'accusa. Però io rispetto la norma, rispetto, tornerò una o due volte in questa splendida città, non da sotto, non da solo da giudizio. Io ritengo che, a differenza di altri, non cambio faccia e non cambio giudizio se sono al governo o se sono a disposizione. Ritenevo che telare l'integrità territoriale, l'onore, la dignità, le norme, i confini e la sicurezza dell'Italia fosse un dovere quando ero al governo. Continuo a ritenere che sia un dovere o un dovere a persone che sono a disposizione. A differenza di altri non cambio giudizio in base alla poltrona che occupo. Mi soddisfa che il giudice non so, e lo ringrazio, abbia colto la nostra richiesta quantomeno di interpellare l'acquare vista dell'Italia. Per chiedergli ma nell'anno successivo avete fatto la stessa cosa? Ci sono almeno dieci articoli di giornali, dieci interviste in cui giustamente, pur essendo cambiato il governo, l'iter è esattamente lo stesso, anzi non per quattro giorni. Ma ci sono alcuni casi di permanenza in mare per undici giorni, in attesa dell'avvenuto riconlocamento. E quindi io pure al posizione dico, hanno fatto bene.